La richiesta c'è una forte attenzione sul limone proprio perché effettivamente viene utilizzato come disinfettante, come prodotto culinario e sicuramente a livello di tutti gli utilizzi che vengono fatti a uso terapeutico. Abbiamo dovuto fare parecchi percorsi di formazione proprio per invogliare le persone a venire a lavorare perché comunque la tensione e la paura era tanta, però nonostante tutto siamo riusciti poi a far ritornare le persone al lavoro, metterle in sicurezza e iniziare poi di nuovo a lavorare. Grazie a questo frutto miracoloso che oggi possiamo dire che siamo salvi.